Avendo una certa età, a questo punto si dice sempre ahimè, ahimè è un corno, cioè è importante avercela e anzi andare molto oltre con l'età. Quindi avendo una certa età ricordo il Ferragosto come era in un'Italia molto diversa, quando si dice il secolo scorso, diciamo comunque in fondo sono 25 anni fa. Allora, chi a Ferragosto ha sempre lavorato, come a me capita e è capitato, si ricorda le città completamente deserte. Se rimanevi al lavoro dovevi stare a te, quindi naturalmente in città, ma anche quelli che rimanevano in città semplicemente perché non andavano in vacanza e magari non erano al lavoro, dovevano ricordare di comprare da mangiare per tempo, nel senso che non solo era tutto rigorosamente chiuso, ma era chiuso magari anche dal giorno prima e non trovavi un bar, non trovavi un bar. Lavorando in centro a Roma, mi ricordo l'81, l'82, il Ferragosto di quegli anni, scendevi cercando un posto dove mangiare un panino, avevi sbagliato l'indirizzo, nel senso che non c'erano. Perché? Perché era una condizione diversa e città organizzate in modo diverso. Oggi è tutto completamente cambiato e credo in meglio. La gran parte delle cose sono aperte fino alla sera prima, sono aperte anche alla mattina di Ferragosto. Ovviamente trovi bar, ristoranti, è cambiato anche il turismo naturalmente, è cambiato il nostro modo di concepire il tempo. E comunque nell'Italia, nella Francia, nella Germania, nel nessun paese sviluppato, chiude tutto come si chiudeva allora. Per i più giovani, per i quali forse è anche difficile immaginare, c'è un bellissimo film di Dino Risi, Il sorpasso, quello con Gasman e Trintignan, che è stato girato nel 1962, ecco, possono comodamente vedere nel film che cos'erano le città completamente chiuse. Ripeto, le cose sono andate avanti e sono andate avanti positivamente, anche nell'organizzazione del turismo, anche nell'organizzazione delle vacanze. C'è una cosa che non è cambiata. A parte il cocomero e la grigliata, diciamo così, quelli che sono prodotti naturali o abitudini per cucinare, cuocere le cose. C'è una cosa che non è cambiata e sono la chiusura delle scuole. La chiusura delle scuole in Italia è rimasta esattamente quella del mondo rurale, per cui si chiudeva tre mesi. Non c'è e sono altri paesi europei che abbiano le vacanze scolastiche di tre mesi. Il che, peraltro, crea dei grossi problemi, a parte all'istruzione, perché stare tre mesi lontani dallo studiare, dallo stare in classe, dallo stare con gli altri per imparare, crea un problema di apprendimento, ma poi crea un problema alle famiglie, perché per i ragazzini significa che tre mesi ce li hai completamente a carico durante la giornata e i cosiddetti centri estivi, anche a causa del fatto che i ragazzini sono sempre di meno e saranno sempre di meno, sono diventati molto cari. Cioè, mentre una volta la colonia estiva era un posto dove mandavi i figli di praticamente tutte le condizioni sociali, perché in gran parte era, fra l'altro, finanziata dalla spesa pubblica, vuoi che sia statale, vuoi che sia regionale, senza necessariamente andare al fascismo, era così anche nell'Italia repubblica, nella colonia che ho fatto io, erano queste le condizioni di accesso, e questo non c'è più, oggi un centro estivo per tenere, per occupare, per far fare il bagno, per far giocare, per fare un po' di sport, beh, sono costi, sono costi per le famiglie, se hai di figli, ne hai due, sei rimasto in città, è un problema anche economico. Quindi c'è un problema economico delle famiglie, c'è un problema di apprendimento, e c'è un terzo problema, c'è il dibattito che si fa ogni anno, più o meno a Natale, sul fatto che l'anno prossimo d'estate le scuole saranno aperte, le scuole saranno centri di ritrovo, le scuole saranno il luogo dove si può andare a stare al fresco, le scuole si potranno utilizzare gli impianti sportivi. Le scuole sono fatte per insegnare, per imparare e bisognerebbe tenerle chiuse il meno possibile, so già che alcuna delle obiezioni è quello che dire, stare in classe alle temperature elevatissime è una sofferenza, credo che sia una sofferenza declamata più per i docenti che per gli studenti. In ogni caso io la scuola che ho fatta a Palermo, non è che mancasse il caldo a giugno, neanche a maggio, però ci si stava, questa cosa è che se non c'è l'aria condizionata non si riesce a vivere è una cosa successiva, ecco da questo punto di vista forse quell'Italia lì che non c'è più aveva il vantaggio che le condizioni meteorologiche non erano considerate ostative alla possibilità di produrre, di studiare e naturalmente anche di divertirsi.